Questo è un riconoscimento, diciamo un premio, per l'attività che questo ospedale svolge ogni anno a favore delle donne. Noi ci ritagliamo un periodo, in genere marzo, febbraio, una settimana, dove noi facciamo delle attività esclusivamente per le donne. Su prenotazione chiaramente però, vengono così soddisfatte tutte le loro richieste, sia richieste ginecologiche di visite, mammografie, ecografie, visite ortopediche, visite cardiologiche e quant'altro. Facciamo un numero di prestazioni congruo a soddisfare un po' tutta quella che è la richiesta che ci arriva in questo presidio ospedaliero. Il giorno 30 a Roma il Ministero della Salute, tramite l'Associazione Onda, ha voluto premiare gli ospedali virtuosi che hanno sviluppato questo percorso nell'intero anno e siamo stati premiati come ospedale della provincia di Salerno, unico, perché nell'Asda di Salerno siamo solo noi e quindi per noi è motivo di grossa soddisfazione. Chiaramente io ringrazio soprattutto il Direttore Generale, il Direttore Sanitario che si è sempre sostenuti in questo ed il personale dell'Immacolata che in quel giorno non si spende e sicuramente fa cose eccelse. Di che tipi di servizi parliamo dedicati alle donne? Allora, come dicevo prima, per esempio, tutte le visite che possono riguardare la sfera femminile. In primis visite per la mammella, senologiche, quindi visita ed ecografia o addirittura mammografia, visite ginecologiche con varie visite ginecologiche, con papatest e quant'altro, radiologia, se hanno bisogno di una visita radiologica, quindi di una visita diagnostica di radiologia, ortopediche, cardiologiche e ogni tipo di visita che si dovesse praticamente rappresentare. Noi cerchiamo di soddisfarle un poco in toto. Dottore, qual è la situazione invece del punto nascite qui all'ospedale di Sapri? C'è qualche novità? Adesso no, ancora novità non ne abbiamo, però siamo ottimisti perché fino ad oggi l'abbiamo tutto aperto, anche con un grande sforzo perché lei sa benissimo che il personale è stato sempre carente, e quindi noi abbiamo cercato di tenere duro e non chiudere e speriamo che in futuro ci venga finalmente detto che il punto nascita resta, quindi noi lo possiamo anche potenziare e creare una vita di personale che possa garantirci le prestazioni di cui esso ha bisogno. Perfetto, la ringrazio.